Sono Iader Dardi, Sindaco del Comune di Modigliana e ringrazio il Principe Emanuele Filiberto, gli ordini dinastici di Casa Savoia per l'importante aiuto che ci hanno messo a disposizione. Con questo piccolo video provo a fare vedere qual è la situazione della Scuola di Musica di Modigliana che avete contribuito a sostenere finanziando con un'importante donazione di quasi 20.000 euro l'intervento di insonorizzazione e di realizzazione di una sala prove in questa nostra Scuola di Musica.